La notizia è che l'ordinanza per le emissioni sonore è stata modificata. Ai serni ha musica fino a luna di notte il venerdì, il sabato e nei prefestivi. Imminente l'installazione di dispositivi del controllo dei decibel e zonizzazione acustica delle aree individuate per il by night. Quella del sindaco Piero Castrataro è anche l'occasione per fare alcune precisazioni con una serie di attacchi diretti a coloro che sarebbero strumentalizzando la questione movida estiva. Il primo cittadino parla di narrazione errata di ciò che sta accadendo in città e se la prende con la stampa ma anche con chi getta la benzina sul fuoco. Dobbiamo trovare un modo per fare in modo che la città abbia come giusto che sia dei momenti di divertimento soprattutto per i giovani ma non solo ma al tempo stesso tutelare i residenti del centro storico. Questo credo che sia il modo migliore come abbiamo fatto sempre di rispondere a un problema annoso che nessuno ha risolto nel corso degli anni ma soprattutto di sgonfiare quella che è stata una vera e propria bolla da parte di chi fa politica non perché ama la città ma solo perché deve denigrare quello che viene fatto e rappresenta questa questione come qualcosa contro la città e non aiuta assolutamente a risolvere il problema. Una bolla gonfiata da chi ama fare polemica insomma c'è qualcuno che non lavora per risolvere i problemi noi cerchiamo di risolverli afferma Castrataro. La questione delle sanzioni è stata strumentalizzata non vengono dal comune di Sernia ma dalle forze di polizia nella loro attività di controllo del territorio. È chiaro che dispiace che magari qualcuno venga multato ma al tempo stesso io credo che si possa trovare il modo assolutamente per andare avanti e per fare una proposta che sia di qualità dal punto di vista dell'intrattenimento. Un invito ai titolari dei locali a non avere timore di organizzare serate il comune appoggerà tutte le proposte di spettacoli all'aperto purché in linea con un'offerta variegata di rilievo. Nessuna chiusura nei confronti degli esercenti dunque e intanto dall'opposizione alzano le braccia al cielo per la modifica dell'ordinanza ad esultare il consigliere Giovan Carmine Mancini il quale sui social parla di vittoria dopo il dietrofront dell'amministrazione.